Movida, sei lettere per chiudere un grande divertimento. Mario, sono tutti i miei amici, facciamo l'applauso a Mario per l'intervista, si è immolato per voi, dove siete? Siamo gli Scafati, l'applauso a Scafati, e anche al locale, un applauso a tutti, quanti anni compi? Faccio 24, 24 anni faccio vecchio, faccio nonno. E come mi hai scelto quindi proprio il Movida per festeggiare il tuo? Perché è un bellissimo locale. Chi ti ha portato la prima volta? Gli amici, gli amici mi hanno portato, gli amici già sono stati tante volte. Va bene, va bene, allora un bacio agli amici, ragazzi, alla prossima. A tutta la giornata di Scafati. Buonasera ragazzi. E se applaudiamo, applaudiamo. Di dove siete? Di Torre, Torre Annunziati. E un applauso, Torre Annunziati. Anch'io sono una mezza torrese. Brava! Bene, che ci fate qui al Movida? Casino. Dopo si va a scatenare il suo? Certamente. Baciano i tantei ragazzi. Benvenuti amici di Atentei al Movida, la discoteca è iniziata. Ciao Antonio! 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 Sei? No! Brecca al canale! Brecca al canale, ci sei? Buonasera! Buonasera! Allora, noi dobbiamo dire che non possiamo impegnarlo più di tanto perché lui è ormai iniziata la discoteca e ha da fare. Beh, parliamo un po', dai. Cosa ci proponi stasera per la disco al Movida? Questa sera ragazzi abbiamo Rebus, una copia diciamo un po' originale di Freddie Mercury, che ha fatto un grandissimo show questa sera e sta facendo divertire tutti. Allora, come vi avevamo promesso dalla console, io e Antonio siamo entrati nell'altra saletta del Movida per parlarvi e dirvi due cosucce. Buonasera Antonio, in modo un po'... Si parlano un po' di noi perché dall'altra parte ormai gli anni si fanno sentire. Di là si divertono, ballano, cantano, non ci sentiamo! No speak, non sentire, niente, niente, non potevo parlare, non ascoltavo, quindi adesso siamo più tranquilli. Come i vecchietti ci manca solo la copertina addosso, però comunque siamo al Movida, è come sempre. Le nostre immagini quindi lo testimonieranno, non stiamo dicendo bugie. Veramente bellissima sera stasera con Umberto. Rebus che ci sta facendo divertire! E' come fare un Rebus qui al Movida, però la soluzione è sempre il divertimento, come lo giri, come lo rigiri, il Movida ti porta sempre allo stesso porto a divertirti. E' vero perché poi lui cambia sempre abito anche, però è sempre lo stesso, il divertimento è uguale. Quindi suggerisce Peppe anche la serata Bunga Bunga? Si perché noi abbiamo la sala Bunga Bunga là e qua facciamo la serata Bunga Bunga. Lei poi ci chiama pure a noi il Presidente come ha chiamato l'altra volta D'Alfonso. Eh ma ormai ci sentiamo continuamente. E che dire, anche la domenica, il venerdì le nostre serate, dal lunedì alla domenica festeggiamo i vostri eventi. E lo diciamo sempre a 10 euro, sempre quello che volete, dovete prenotare il divertimento perché qui è di casa. La domenica è sempre free, giusto? Si, 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 è sempre free. E cosa dire di più? Noi ci troviamo sempre perché ho visto che è moda tutta la campagna. Via Pendino! A San Marzano, via Pendino dal 69, che stasera è orfano a 99. E' 0815187546, vivilamovida.it, Movida Italian Disco Pub per il Facebook. E' la scorsa settimana, qualcuno non ha capito la frase che io ho rimensionato del grande Jim Morrison. Essere allegri non vuol dire necessariamente essere felici. Questa è una sottilezza che Jim Morrison diceva tanto tempo fa. Pensateci su, pensateci su, perché non mi posso esimere dal fatto di salutare il mio amore che sta a casa, che è la mia vita onnipotente. Io lo saluto con tutta l'anima che ho. Ciao amore mio, un bacione. E vi salutiamo, da Covid è tutto. Ma non finisce qua perché noi stiamo per andare là e non ve lo diciamo. Ciao, ciao.